Il corso Il Pensiero Strategico, Vision e Creatività per traguardare gli obiettivi si distingue per la capacità di fornire strumenti pratici per sviluppare idee innovative e soluzioni fuori dagli schemi, migliorando la resilienza e la competitività aziendale. Permette di acquisire una visione critica delle dinamiche interne ed esterne dell'organizzazione, facilitando decisioni informate e strategiche. Inoltre, contribuisce a potenziare l'adattabilità ai mercati in evoluzione, rendendo l'azienda più pronta a cogliere opportunità di crescita e a mantenere il vantaggio competitivo. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo. Sulle tue esigenze, entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.